Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi Grazie a voi Un bassottino da coccolare, poi lo prenderei Sono in giro perché sono tozzi, carini, patatosi Ho bisogno di compagnia, ho bisogno di un cane Sapete quella è la cosa bella che mi state intasando i direct di foto dei vostri bassotti, io vi amo Ho deciso, faccio una presentazione powerpoint in cui elenco tutti i motivi validi per cui dovrei prendere un bassotto Poi la mostro al meme e alla Nadia E se funziona ve la posto Mamma mia, cioè studiatissima